Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come vedete, un altro ospite veramente, veramente speciale. Abbiamo Julien qua con noi, che ci racconterà un po' della sua storia, cosa sta facendo e cosa ha fatto in passato. E quindi direi subito di dargli la parola, quindi raccontaci un po' cosa fai attualmente, chi sei, e poi partiamo subito col video. Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Julien Greggio e lavoro come tecnico di radiologia a Londra da ormai un paio d'anni, qualcosina di più. Prima ho lavorato in Italia diversi anni e quindi diciamo che ho avuto modo di sperimentare entrambe queste realtà sanitarie, questi sistemi diversi di sanità, sia pubblica che privata, in Italia e in Inghilterra. Che dire? Che altro? Bah, non è solo lavoro, dicono, quindi diciamo che nel passatempo suono la batteria, quando trovo del tempo. Sto facendo l'università qui a Londra di specializzazione, mi sto specializzando nell'ambito della risonanza magnetica e l'intelligenza artificiale. E nulla più, ogni tanto trovo anche del tempo per visitare Londra, il che è una cosa carina. Bene, bene. Tra l'altro anche lui ha un canale YouTube, ci tendono a fargli un po' di pubblicità, che se lo merita perché sono veramente bellissimi i suoi video. Andate a vederli subito. Finito questo video andate sul suo canale, quindi prima finita il video poi andate sul suo canale. Diciamo che sono designati per tecnici radiologi e qualche altro profilo professionale. Però, se vi interessa l'argomento, perché no, dai, date un occhio. Va bene, va bene, dai. Quindi direi di cominciare dal principio, quindi dici un po' che percorso di studi hai fatto intanto. Sì, volentieri. Inizialmente, diciamo, torniamo nel lontano 2011, avevo preso questa strada di fare la laurea triennale in tecniche di radiologia medica. e al tempo, penso ancora, adesso sono passati diversi anni, in realtà era un percorso numero chiuso. C'era appunto il classico test d'ingresso per le professioni sanitarie. Mi sono laureato poi nel 2014, ho iniziato a lavorare e ho lavorato per 5-6 anni in Italia. e dopo da lì ho deciso di provare questa esperienza all'estero e di trasferirmi qua, dove poi mi è sopraggiunta la voglia nuovamente di tornare a studiare, fare questo master di specializzazione che, diciamo, consiste nella nostra laurea magistrale, che è quello che sto facendo adesso, diciamo. Perfetto, perfetto. Allora, così proprio a brucia pelo ti direi di dirci subito quali sono magari le principali differenze con le altre professioni sanitarie, ma soprattutto quali sono i vantaggi, gli svantaggi magari di fare il tecnico di radiologia piuttosto che infermiere, magari ostetica, qualsiasi altra cosa? Allora, guarda, probabilmente fammi pensare a qualche svantaggio. Diciamo che quello che spesso è stato... Vantaggi? Sì, sì, dopo dovrò pensare anche di vantaggi ovviamente. Ma diciamo che comparato a altre professioni sanitarie, forse quello che è stato spesso additato al mestiere del tecnico radiologo è il fatto di lavorare con le radiazioni ionizzanti. È sempre stato considerato ovviamente uno svantaggio per diversi motivi. Poi non è il mio caso perché lavorando con la risonanza magnetica non sono radiazioni, quindi parliamo di un alto frangente. Però effettivamente esiste questa problematica della radiazione ionizzanti. Devo dirti la verità, è un problema che penso al giorno d'oggi, è importantissimo, però i rischi associati legati alla processione sono minimi, soprattutto per chi lavora nella radiologia tradizionale, TAC e quanto altro. Nel senso che i sistemi, anche le strutture, sono comunque talmente tanto sorvegliate che sia comunque tu hai il tuo dosimetro, insomma il rischio è veramente minimo da questo punto di vista. Quindi ecco, non so quanto lo immaginerei come uno svantaggio. Un vantaggio secondo me è sicuramente quello del fatto di lavorare comunque in un ambiente molto tecnologico. Se sei una persona portata alla tecnologia comunque sono tutti questi nuovi sistemi AI based. C'è tantissima intelligenza artificiale che sta comunque sopraggiungendo. Quindi sei sempre esposto a questi cambiamenti nuovi, oltre al fatto che comunque di tu o tu lavori con i computer, è la maniera in cui fa gli esami, diciamo. Quindi se sei una persona a cui piace la tecnologia, ecco, da questo punto di vista è un vantaggio che magari altre professioni sanitarie non sperimentano da questo punto di vista. E poi direi che ci sono in realtà dei vantaggi, svantaggi in comune con le altre professioni sanitarie. E quindi un vantaggio per conto mio è il rapporto con il paziente. Il rapporto con il paziente che sicuramente anche un infermiere ha, o anche, che ne so, un fisioterapista. Quello è per me qualcosa di molto importante. Quindi questo è sicuramente un vantaggio comune e che lega un po' tutte le professioni sanitarie. Gli svantaggi? Oddio, al tempo il tecnico di radiologia forse era quella figura che faceva un po' più fatica a trovare un posto di lavoro subito, appena uscito all'università, mentre magari per un'infermiera era qualcosa di un attimino un po' più accessibile. Credo che adesso comunque stia cambiando, ecco, da questo punto di vista. Probabilmente la pandemia ha avuto un ruolo importante da questo punto di vista. Certo, certo. Beh, molto brevemente in realtà, penso che te lo ricorderai ancora, le materie magari principali che si fanno durante il corso di tre anni in università. Sapresti dirmi magari su cosa si focalizza principalmente il corso? Sì, beh, guarda, penso che a differenza delle altre professioni sanitarie ci sia una grossa parte di fisica, fisica delle radiazioni, appunto informatica, anche statistica, c'è stata tutta una serie di queste dinamiche. Poi però si passa appunto alle materie specifiche, comunque si va alla parte di anatomia, che vabbè questa ciò mi interessa un po' tutti in realtà. e poi anatomia radiologica, questa ovviamente è la parte cruciale, soprattutto per quanto riguarda la parte di RX. Poi c'è tutta la parte di risonanza magnetica, ancora la fisica dietro alla generazione delle immagini di risonanza magnetica. Quindi se c'è una grossa componente di fisica, diciamo, su questo corso. Certo, certo, però direi subito che per fortuna non sono passato, cioè sono passato anche a medicina, perché io avevo fatto quell'anno sia il test di medicina che il test di professioni sanitarie con prima scelta tecnica di radiologia medica. Perché tra l'altro conoscevo te, ho detto, ma è vero che si trova bene quello che vedevo su Instagram, ho detto, ma sì, mettiamo questa come prima scelta a caso praticamente. Che bello, le scelte fatte così guardando altri su Instagram. E ho detto, cioè adesso scopro che, non avevo mai pensato che c'è un sacco di fisica e matematica dietro, perché alla fine è tutta fisica, anche la radiazione no. E quindi per fortuna non l'ho fatta alla fine, perché io sono veramente zero in fisica, però... Devo dirti la verità, non ci avevo pensato neanche io al tempo. L'ho scoperto, dopo mi sono messo le mani sui capelli, ho detto, oh madonna, di nuovo la fisica. Ecco, ecco, esatto, esatto. Poi quando sei, come si dice, quando sei, diciamo, in ballo bisogna ballare, quindi niente, tiri fuori il meglio di te, anche se in realtà non hai niente da offrire, quindi qualcosa viene fuori. E allora, visto che ci siamo, direi che ti volevo chiedere se eventualmente ti era mai passata questa idea di fare anche medicina, magari come seconda o come prima scelta, e soprattutto spiegano una volta per tutte, che è una cosa che mi chiedono sempre, cioè non sempre però spesso, la differenza tra tecnico di radiologia e medico radiologo, o radiodiagnosta, che si chiamerebbe radiodiagnosta, però vabbè, chiamiamolo radiologo anche quello. E sì, insomma, qualcosa su questo argomento qua. Allora, ti dico la verità, ho un grandissimo rispetto per chi fa medicina, personalmente però l'ho sempre visto come un percorso molto lungo, e che forse per me sarebbe stato un po' troppo, devo essere onesto. E al tempo poi volevo una sorta di indipendenza economica dai miei genitori, quindi ho detto, mi serve qualcosa che nel giro di tre anni mi possa far lavorare, e insomma, e quindi al tempo ho fatto questo tipo di scelta. Devo dire che effettivamente però quello di fare medicina è un investimento sul lungo termine che poi comunque paga bene, e comunque sia dal punto di vista professionale che probabilmente anche dal punto di vista economico. Il medico radiologo, ad esempio, è quel tipo di professione che, diciamo, il professionista che ha fatto la laurea in medicina e che poi si è specializzato nell'ambito della radiologia, ed è quello che a tutti gli effetti poi referta le immagini che il tecnico di radiologia va a produrre. Quindi il tecnico di radiologia appunto produce le immagini, quello che si rapporta con il paziente, fa ogni tanto anche la chiacchiera con il paziente, fa l'esame di risonanza, quindi pianifica tutte queste sequenze a seconda dei vari piani spaziali dell'anatomia, e poi il medico radiologo è quello che, insomma, nella sua stanza radiologica se le guarda tutte. Lo sapevo che andavi a parlare qua. Vai, vai, finisci, finisci e poi dico una cosa anch'io, vai, vai. No, 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 guarda, no, no, anzi, guarda, ti dico, è un ambiente molto più rilassante, quindi lo invidio. Si chiude nel suo stanzino, si guarda tutte le immagini e, diciamo, fa quella che è la parte poi più importante del processo, che è quello di trovare la diagnosi, effettivamente. Quindi, ovviamente, il carico delle responsabilità sono in gran parte del medico radiologo. Ok, allora, io difendo un attimo la categoria di medici, visto che ne farò parte fra qualche mese. Non è che ne hai parlato male, anzi, però alla fine comunque, forse soprattutto, beh, in ecografia sicuramente il medico ha una grandissima componente col paziente, perché gliela fai tale ecografia, almeno qua in Italia e in Inghilterra, non so se sia così, perché so che forse sono anche gli infermieri che fanno le ecografie. Può essere? In realtà sono tutte le professioni sanitarie, e basta fare appunto un master di specializzazione in ecografia. C'è la cosiddetta figura che si chiama sonographer, che fa praticamente, questo è andato un po' a rimpiazzare, non c'erano abbastanza medici ecografisti, quindi hanno dovuto un po' trovare un modo per, siccome appunto l'ecografia è un esame, che c'è un altro, esatto, quindi hanno dovuto cercare di trovare una strada alternativa da questo punto di vista. Ecco, ecco. Beh, comunque in Italia lo fanno praticamente solo i medici attualmente, quindi insomma se volete un po' un rapporto col paziente, questa cosa qua sicuramente si può fare con la specializzazione in radiologia appunto, anzi in radiodiagnostica, dopo medicina, e comunque anche in realtà in risonanza magnetica, bene o male, il medico è sempre là di fianco, almeno da quello che ho visto io all'ospedale Schiavonia, dove penso che anche tu hai fatto il tirocinio, forse, non so se, qualcosina, meno del tecnico di radiologia, sicuramente, però un minimo di rapporto. No, sai cosa? Assolutamente l'unica cosa è che ho trovato tantissime differenze tra il pubblico e il privato, sia qua che sia qua in Inghilterra che anche in Italia, mentre magari nel privato il medico è un po' più, comunque ha anche un bel po' di esami uno dietro l'altro, quindi magari si chiude un po' veramente nel suo stanzino e ha un esame dietro l'altro da refertare, quindi lo vedi veramente poco, cioè proprio lo vedi poco nella diagnostica. È come lo sogniamo tutti quanti. Esatto, esatto, probabilmente nel pubblico, anzi nel pubblico è così, perché anche qui all'ospedale St. Thomas dove avevo lavorato lavoravo a fianco del medico radiologo che comunque era un bel rapporto perché comunque dopo fai l'esame anche più dedicato alla patologia del paziente perché comunque il medico ti dice andiamo a vedere un po' qua, un po' là, possiamo fare questo tipo di sequenza, quindi il rapporto è ancora più bello da questo punto di vista. Secondo me varia molto dal tipo di struttura. Certo, certo, certo. Allora usciamo un attimo magari dell'università, quindi raccontaci un po' la tua esperienza lavorativa in sé per sé da dopo i tre anni in università a dove sei adesso. Allora, no, cerco di farla il più breve possibile. Appunto, guarda, dopo, come dicevo, dopo la laurea triennale ho avuto la fortuna perché appunto erano tempi un po' così così, si faceva un po' fatica a trovare, ho stato veramente fortunato di trovare un posto vicino a casa a Monselice, a grande Monselice, e di lavorare cinque, sei anni tra Padova e Monselice come tecnico radiologo con dei colleghi fantastici, un bel team. Non avevo veramente niente altro da chiedere. Poi però mi è sopraggiunto questa, come hanno detto, a Amadeus, a Sanremo, ogni tanto ti parte la sciabarabba e ho detto che niente, ho pensato perché non proviamo a fare qualcosetta un po' più diverso, proviamo a rimetterci un po' in gioco, sentivo che stavo abbastanza statico probabilmente, poi anche magari come indole avevo un po' smesso di cercare di imparare, quindi ho detto non posso smettere adesso che c'è ancora comunque tutte le carte in regola per fare qualcosa, quindi mi sono un po' rimesso in gioco, ho detto andiamo a vedere, quindi comunque lasciando un posto a tempo indeterminato che in Italia sempre, insomma, è sempre da pensarci non due, non tre, forse quattro, cinque volte, forse anche dieci e niente, quindi poi mi sono trasferito in Inghilterra, adesso sono qua da due anni e mezzo qui a Londra, ho lavorato su un paio di ospedali diversi tra privato e pubblico e adesso ho fatto un po' di ricerca inizialmente, adesso mi sono buttato in questo ruolo un po' più manageriale, quindi gestisco un team di tecnici radiologi che lavorano nell'ambito della risonanza e il posto dove lavoro si chiama Cleveland Clinic che è praticamente la sede di Cleveland qui a Londra e c'è questo ospedale molto famoso che comunque nell'ambito dei vari ranking mondiali cercano sempre di piazzarlo forse anche per motivi politici tra i primi dieci ospedali al mondo e ha da poco aperto questa nuova sede a Londra è un ospedale nuovo e come tutti gli ospedali nuovi sono tante dinamiche da gestire tante realtà diverse quindi non ti nascondo che comunque lo stress si sente però insomma è una realtà interessante dopo Londra come immagini anche tu probabilmente soprattutto è una città di movimento non ci si ferma mai quindi è così è anche nel mondo del lavoro tra l'altro volevo chiederti c'è l'impatto iniziale sia con la città ma soprattutto anche col lavoro soprattutto per il gap magari della lingua adesso non so quanto bene sapete l'inglese però insomma immagino che non è che sei andato là a fare una vacanza sei andato là a lavorare quindi bisogna saperlo ancora meglio probabilmente quindi magari se ti vuoi dire due parole così su questa cosa qua sì certo ti dico la verità ero artito convinto di comunque saperlo un qualcosina avevo fatto l'IELTS avevo fatto comunque sai dopo anche tu sei nell'ambiente musicale sai ascolti sempre tante canzoni magari in inglese c'è qualcosina cavolo lo mastico quanto difficile potrà mai essere ho iniziato a lavorare ho detto ho arrivato a casa da mio fidanzato ho detto non capisco non capisco non capisco niente anche perché gli accenti poi in una città come Londra hai persone dall'Australia hai persone dal Canada americane persone dall'India quindi il modo di parlare inglese è sempre diverso l'accento è sempre diverso e alla fine è tutta una questione di orecchio quindi proprio entrare in quel meccanismo di cercare di capire all'inizio proprio ho questo ricordo guarda lo condivido brevemente che è il primo turno che ho fatto il lavoro qua all'Harlest Street Clinic quindi anche una struttura tutto sommato abbastanza importante in una via importante di Londra e ero stavo facendo come lavorando nella parte cardiaca quindi risonanze cardiache e comunque un paziente dietro l'altro quindi insomma c'era bisogno del massimo supporto mi chiedevano di passargli tipo degli oggetti tipo che ne so per la canula per mettere la canula al paziente oppure tantissimi oggettini ovviamente che si usano nella pratica quotidiana però ovviamente li chiamavano con i nomi inglesi quella è una cosa che cioè tu hai fatto la tua università in italiano nella tua comfort zone e io guardavo e mi dicevo cosa mi starai chiedendo cosa devo passargli adesso cos'è sta roba e quindi i primi diciamo che i primi mesi sono stati drammatici da questo punto di vista però poi ci fai il callo e dici senti non andrò mica in prigione prima o poi imparerò sì sì infatti infatti ci sta ci sta se vuoi parlare un minuto proprio di quella è una tua tipica giornata lavorativa oppure anche fare un confronto magari tra quello che fai adesso e quello che facevi insomma tre, quattro, cinque anni fa qua in Italia giusto per capire proprio cosa si fa nella pratica perché io magari lo so perché l'ho visto anche fare insomma il tirocinio però magari uno che è ancora non so in quinta superiore non sa ancora bene cosa si fa effettivamente in ospedale o nelle cliniche ecco sì beh diciamo che ci sono abbastanza similitudini tra il pubblico e il privato alla fine il mistero tecnico di radiologia è quello di interfacciarsi appunto con il paziente che viene a fare una procedura di tipo diagnostico e c'è una parte principale che diciamo il posizionamento quindi prendo la risonanza perché al mio campo il paziente viene posizionato nel lettino c'è questa diciamo bobina che consente di acquisire le immagini quindi ovviamente la risonanza magnetica è spesso anche associata con la claustrofobia perché comunque si è un posto abbastanza stretto questo tunnel famoso qualche paziente lo soffre particolarmente quindi c'è anche un aspetto tutto psicologico dietro nel cercare di convincere il paziente che comunque è un esame molto importante che non è poi così brutto là dentro quindi c'è tutto un aspetto anche psicologico da questo punto di vista della professione e una volta fatto questo appunto il nostro mestiere è davanti a un computer in base brutto da dirlo ma è la verità e pianificare diciamo in base all'anatomia del paziente in base alla patologia cercare di performare diciamo questi tipi di sequenze radiologiche che vanno eseguite in maniera mirata per trovare proprio questo questa patologia questo quesito risolvere questo quesito diagnostico diciamo quindi queste immagini che poi verranno prodotte appunto c'è un principio fisico dietro vengono come abbiamo detto mandate appunto al radiologo che poi le analizzerà e effettivamente dirà al paziente ha magari una frattura il paziente ha questo il paziente è quello quindi questo è un po' in soldoni quello che fa il tecnico di radiologia perfetto perfetto non avrei saputo spiegarlo meglio anzi a questo punto ti voglio chiedere quali sono gli sbocchi professionali che si possono avere con questo tipo di laurea oltre a quello che hai fatto te e soprattutto se secondo te ancora vai attualmente in Italia o all'estero questo tipo di profession sanitaria qualcosa su questo campo qua insomma allora diciamo che adesso come dicevamo probabilmente anche dovuto alla pandemia diciamo gli sbocchi sono un po' più vari nel senso ci sono un po' più posti liberi e quindi diciamo risulta un pochino più facile rispetto in passato trovare lavoro e anche se devo dire che quando ero in Italia lo trovo pazzesco a pensarci adesso comunque mi ritenevo fortunato di avere un lavoro e che qua la mentalità invece è ritenersi fortunato per avere un lavoro di un certo tipo quindi la differenza è abbastanza importante ecco perché vero o male si parte dalla base che qui tutti hanno un lavoro di base quelli almeno che lavorano in questo ambito poi si cerca sempre di fare la scalata e arrivare a un certo tipo di carriera professionale però diciamo che al tempo quantomeno non parlo di tanti anni fa la mia principale ospirazione in Italia era avere un lavoro prima di tutto come tecnico radiologo adesso sicuramente la strada è un po' migliorata devo dire che il problema è sempre il fatto che le opportunità non sono tantissime nel senso che magari un lavoro c'è progredire è sempre un po' difficile nel senso che secondo me la probabilità di rimanere un tecnico di radiologia sono molto elevate e il motivo principale è che ti faccio un esempio proprio pratico per mettertela in maniera abbastanza semplice se andassi su LinkedIn in questo momento e volessi scrivere responsabile del dipartimento di imaging che normalmente qui è un tecnico di radiologia quindi comunque una figura manageriale solo a Londra troverai magari due tre diciamo opportunità ogni mese nuove per cui posso applicarmi posso fare la mia candidatura credo in Italia di non averne mai vista neanche una onestamente perché comunque poi lì ci sono gerarchie politiche modi di entrare anche il concorso onestamente non so quanto sia la maniera migliore per sondare proprio la conoscenza di un candidato onestamente quindi sì diciamo che gli sbocchi professionali qui sono molto vari si può veramente diventare un po' di tutto ho visto anche gente diventare direttore di ospedale partendo da tecnico radiologo diciamo che in Italia sia un pochino un po' più statici ecco dal suo punto di vista ok ok bene bene si scoprono sempre cose nuove insomma altra cosa molto importante di cui ovviamente tu puoi anche non rispondere ne hai pienamente la facoltà adesso hai già capito di cosa stiamo andando a parlare ma voglio sapere ovviamente se vuoi condividerlo più o meno quanti sono gli stipendi sia in Italia sia all'estero se si può dire qualcosa anche in generale insomma a parte che sono cose che si trovano anche su internet ormai però voglio dire non so visto che è una cosa di cui si parla poco secondo me molto erroneamente perché secondo me bisogna sapere anche questa cosa perché se uno comunque magari a 19 anni deve decidere cosa fare per i prossimi 40 anni deve avere anche giusto magari un parametro insomma poi se vuoi essere anche più specifico tanto meglio perché io sai che do anche questo tipo di informazioni in questo canale quindi se vuoi insomma vedi un po' tu cosa puoi dirci guarda io sposo totalmente la tua filosofia e penso che ci voglia chiarezza da questo punto di vista anche perché cercare sempre di nascondersi dietro affermazioni di facciata non ha senso quindi cercheremo cercherò magari di condividere un po' di numeri per far andare un po' l'idea ecco diciamo che nel pubblico probabilmente il stipendio di un tecnico di ideologia in Italia si aggira sui 1500 e 1600 che poi cresce di un po' negli anni è privato magari qualcosa anche di più si arriva ai 2000 tranquillamente penso dopo qualche anno l'unica cosa appunto che gli scatti sono veramente cioè bisogna proprio arrivarci con calma e sono scatti minimi ecco diciamo che non ci si può aspettare quello scatto pazzesco che magari invece qua dal punto di vista diciamo di carriera professionale c'è perché appunto essendoci molte più opportunità si cresce sempre e poi lo stipendio magari all'inizio non c'è neanche quella differenza abissale poi Londra è una città comunque abbastanza dai prezzi non indifferenti per qualsiasi cosa magari all'inizio qui si parte si prende per dirti un 2500 2600 pound che uno dice vabbè magari me ne stavo anche in Italia però poi come nel mio caso cioè nel giro di pochi anni parlo di due anni comunque sono arrivato a prendere su circa 3400 3500 e comunque inizia ad essere uno stipendio anche importante comunque convertito in euro è una buona cifra ovviamente perché è quello che prende un primario ospedaliero qua per dirti quindi forse anche di più ovviamente non è paragonabile perché i affitti di Londra non sono come quelli bravo bravissimo bravissimo prima cosa seconda cosa c'è anche una cosa da dire che qui a Londra diciamo non c'è la tredicesima la quattordicesima che in alcuni posti c'è in Italia c'è poi ci sono anche alcuni sussidi importanti in Italia perché famiglia insomma ci sono delle cose da analizzare anche su un contesto un po' più grande come numeri diciamo che i numeri sono questi e più che altro qui c'è ancora la possibilità di crescere crescere ancora di più cioè si ha quell'impressione che ci possa essere quella scalata senza fine di andare sempre più in alto secondo me invece in Italia tu a un certo punto hai un po' l'idea che devi fermare qui e dici ok mi fermo un attimo perché questo è quello che sono arrivato magari trovi l'idea di fare qualcosa di alternativo per arrotondare ecco certo certo tra l'altro una cosa che mi è venuta in mente che confermi se è vero cioè in UK penso sia forse l'unico stato insieme all'Italia che ha il sistema sanitario nazionale quindi gratuito o è una cavolata hai ragionissima e c'è anche una piccola differenza da quello italiano tra l'altro perché noi paghiamo il ticket giusto correggimi se sbaglio qui proprio non c'è neanche neanche quello è un'arma a doppio taglio perché uno ha un dolorino a lunghia e si presenta e infatti questo problema che praticamente è un ambiente saturo liste d'attesa lunghissime e quindi se devo dirti la verità il sistema sanitario italiano secondo me è meglio è meglio perfetto è meglio sì se dovessi decidere dove curarmi mi curerei in Italia se devo dire anche in termini di competenze come professionisti come università sarà perché comunque poi a Londra trovi un po' di tutto viene anche quello dall'università di Canica T c'è gente da tutto il mondo il che è buono ma è anche una cosa un po' così così dovresti che in Italia ho sempre trovato comunque diciamo generalmente persone competenti sotto tutti gli aspetti ecco poi c'è sempre l'eccezione però secondo me in Italia il livello di competenze è abbastanza alto perfetto perfetto adesso volevo chiederti in realtà ma forse l'abbiamo già detto come mai hai deciso di andare all'estero se vuoi rimarcarlo un attimo e come ti trovi da un punto di vista anche se uno di 22 25 28 anni dovesse decidere adesso di andare in Inghilterra oppure piuttosto che insomma nel tuo caso a Londra cosa gli vorresti consigliare oppure gli diresti no guarda stai in Italia oppure trasferisciti se questo è quello insomma dicci un po' qualcosa su questo ambito qua io prendo te Marco e ti dico vieni a Londra ma vuoi direi no sai cosa perché dopo forse nel mio caso magari è un po' più una scelta non dico definitiva però poi magari si fa un po' più fatica a tornare in Italia perché comunque ti abitui a questo sistema anche dal punto di vista economico fa un po' la differenza però diciamo dal punto di vista medico alla fine parliamo anche soprattutto di questo nel tuo canale e secondo me fa veramente la differenza perché comunque ti dà un'esposizione internazionale poi secondo me puoi anche riutilizzare tornando indietro in Italia quindi comunque secondo me ti apre le porte sia dal punto di vista professionale ma anche dal punto di vista della mente rapportati comunque con tantissimi professionisti di vario tipo sia da come ho detto prima da quello che magari dici oh ma questa qua non è sana chip da quello che dici oh questa qua è illuminare caspita perché comunque è un'esposizione talmente vasta sia in ambito di ricerca di gente che porta idee che è veramente utile anche due tre anni comunque faremo la differenza e soprattutto non solo come professionista ma anche come persona perché ti dico come persona prima di tutto sono cambiato tantissimo non voglio dire che magari a Monseri c'è invece una mentalità limitata anzi anzi insomma la mia famiglia è sempre stata abbastanza aperta però quando sono venuto qua caspita ho iniziato a rapportarmi con tantissime culture diverse cioè proprio la mentalità si è proprio estesa in una maniera esponenziale certo certo e poi ci sono concerti ogni settimana perché io vedo sempre te che sei sempre in giro praticamente adesso capisci dove va il mio stipendio esatto esatto perché io sono qua con un deficiente dove tipo a Padova c'è un concerto ogni due anni di qualche gruppo che condividiamo ovviamente la passione anche questo genere di musica qua a Londra invece venerdì sabato domenica fissi c'è sempre qualcuno ad andare a vedere costante questa è la mia paura un po' se dovessi tornare in Italia e dire vado dov'è il concertino dietro l'angolo la band anche quella locale che dici dai che stasera ci andiamo a sentire un po' di rock eh purtroppo sì purtroppo sì questa è una bella realtà sì da questo punto di vista anche se devo dirti che casa è sempre a casa vedi diciamoci le cose per come stanno a casa si sta sempre bene io personalmente cerco sempre di tornare una volta ogni due mesi quindi insomma casa fa sempre la differenza va bene va bene dai allora concludiamo un po' questa intervista anche se so già ovviamente anche qua la risposta da quello che ho visto in questi anni ma soprattutto adesso se tornassi indietro a 7, 8, 10 anni fa ormai forse anche di più rifaresti tutto quello che hai fatto o cambieresti qualcosa addirittura cambieresti facoltà probabilmente rifarei la stessa facoltà l'unica cosa forse ti dico la verità avendo lavorato 5, 6 anni forse avrei potuto magari lavorarne 3 in Italia e poi magari considerare di trasferirmi un po' prima questo perché magari stando sai 5, 6 anni nello stesso posto ho imparato tantissime cose è stata una base fondamentale oltre al fatto che sono stato un po' più bene con i colleghi e tutto probabilmente magari sarei entrato un po' prima trasferirmi un po' prima nel mercato del lavoro qui in UK e quindi magari avrei potuto progredire anche un pochino più facilmente ecco dal suo punto di vista essendo magari un po' più giovane non che adesso sia vecchio almeno spero insomma gli anni passano però insomma sì devo dire che la competizione anche qua ci sono state opportunità ma la competizione non scherza ecco allora se ti può consolare noi futuri medici o medici insomma la tua età abbiamo appena iniziato a imparare qualcosa puoi andare tranquillo che sei stra avanti rispetto alla media italiana di qualsiasi professione è un percorso per il lungo termine la vostra è una maratona quindi non mollare che secondo me sta andando bene vedrai che le soddisfazioni arriveranno va bene va bene allora ti ringrazio ancora una volta Giuliani di averci dato tutte queste informazioni veramente essenziali anche per me che io metà sicuramente non le sapevo forse anche di più quindi ti ringrazio vi ricordo ancora seguitelo sia su Instagram sia su YouTube dappertutto insomma che deve crescere anche il suo canale esponenzialmente in questi prossimi giorni mesi e anni e basta insomma ti ringrazio ancora per questa opportunità che ci hai dato grazie infinita è stato un piacere è stato un piacere seguito Marco caspita che secondo me è un canale ce ne sono tantissimi così quindi mi raccomando è una bella iniziativa bene bene esatto quindi iscrivetevi al canale seguite anche me su Instagram perché so che tantissimi non mi seguono ancora e basta dai per tutto il resto ci vediamo al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti